Lei ha smentito più volte che sia stato speso anche un solo euro di soldi pubblici per viaggi e soggiorni. La signora Boccia sostiene invece che lei non ha mai pagato. Ma chi ha pagato? Io riaffermo categoricamente che mai un euro del Ministero è stato speso per la dottoressa Boccia. Ma chi ha pagato? Ho pagato io. Guardi direttore, lei prima di iniziare questa conversazione, io l'ho fatta accedere al mio dispositivo del mio telefono cellulare con la mia banca. Lei ha potuto vedere con i suoi occhi, ma io dovrei averli qua. Ecco, lei può vedere, no? Ce l'ha qua. Questo è un biglietto di un treno fatto da me per Milano quando siamo stati alla Pinacoteca. Mi faccia vedere. Sì, questi sono gli aerei per Taormina, vede? Questi sono gli aerei per Taormina pagati da me sulla mia carta di credito personale. Quindi sono tracciati. Che fa, sono tracciatissimi, che fa riferimento al mio conto corrente personale. Che tipo di rapporto c'era tra lei e la Boccia quando è iniziato e quando è finito? Un rapporto, questo mi pesa doverlo raccontare, perché è una vicenda che attiene alla mia sfera privata. Un rapporto di tipo personale, un rapporto di tipo affettivo. Lei è ricattabile? Assolutamente io non sono ricattabile, perché in una funzione pubblica sei ricattabile, sei usato impropriamente il denaro pubblico e io glielo ho dimostrato e glielo ridimostro. Io su questo terreno non sono ricattabile.